Una piccola tagga per non dimenticare una piccola morte. E davanti alla tagga, collocata nel cortile della Magnolia di Palazzo Edigiano, che tra le iniziative per la liberazione di Pistoia e del nazifascismo, realizzate dal Comitato Unitario per la Difesa delle Istituzioni Repubblicane del Comune, si è rinnovato il ricordo di Ione Pacini, una tragica storia emblematica dei giorni del 44 e della crudeltà della guerra che ebbe per teatro proprio il cortile del municipio pistoiese, dove il 10 settembre di quell'anno, due giorni dopo la liberazione della città, Ione Pacini, che aveva 5 anni, stava giocando quando venne colpita mortalmente dalle schegge di una granata scagliata dai tedeschi e ritirata. Con la bimba nel cortile erano una ventina di persone e morirono due partigiani, Rinaldo Pixeddu, giovane magistrato Sardo e Franca Pirami. La piccola Ione era figlia di una vedova che accudiva una famiglia molto numerosa ed era stata affidata a una baglia, Assunta Ballerini. Fu la baglia, poco dopo la guerra, a chiedere che venisse apposta alla tagga nel cortile di Palazzo Comunale, davanti alla quale ogni anno si svolge una breve cerimonia delle istituzioni che mantiene vivo anche questo ricordo emblematico della tragedia della guerra vissuta a Pistoia.